E per capire il curioso rapporto che c'è tra Dio e la donna facciamo un breve ripasso della della creazione vi ricordate a che punto della creazione secondo la narrazione biblica appare la donna nel creato spoiler alert non era previsto facciamo un ripasso velocissimo primo giorno della creazione secondo la bibbia che cosa fa Dio ve lo ricordate no perché siete degli atei del cazzo fa la luce fa la luce primo giorno la luce luce secondo giorno separa le acque di sopra da quelle di sotto i teologi ci insegnano che è la creazione dell'atmosfera terrestre e chi siamo noi per discutere con i teologi gli scienziati del presepe chi siamo noi per discutere con gli teologi terzo giorno della creazione tutta la vegetazione terrestre inclusi i kiwi che sono buonissimi si avrei messo una settimana a fare i kiwi fun fact sui kiwi ci sono due modi per mangiare i kiwi si possono tagliare a metà e svuotare con un cucchiaino oppure sbucciare e tagliare a fettine statisticamente chi gli sbuccia e gli taglia a fettine è un pedofile adesso lo sapete potete proteggere le vostre famiglie in futuro quarto giorno della creazione si allontana fa gli astri non ce ne frega un cazzo quinto giorno torna sulla terra la mattina fa i pesci pomeriggio fa i volatili sesto giorno tutti gli animali terrestri e l'uomo e l'uomo non l'uomo e la donna e l'uomo siete arrivate dopo cari mie immigrate del cazzo e questo dà un'idea molto precisa di quale fosse il disegno di dio per l'umanità eravamo tutti uomini con dei fisici scultori perfetti immortali in un giardino terrestre che ci inculavamo a tirondella per l'eternità e questo spiega così tante cose rende chiare perché non ci piacciono veramente le donne vogliamo tantissimo scoparvi tantissimo però come persone state abbastanza sul cazzo non so se siete accorti di questa cosa perché non siete degli uomini a noi piacciono gli uomini ci piacciono gli sport fatti da uomini guardare sport fatti da uomini con altri uomini uscire con gli altri uomini andare a bere con gli altri uomini parlare con gli altri uomini a nessun uomo sulla terra passa per la testa di parlare con una donna parliamo con le donne soltanto perché avete deciso che questo è l'unico modo che abbiamo per cercare di accoppiarci ma ci sono due ragioni fondamentalmente per cui un uomo parla con una donna o perché vuole tantissimo accoppiarsi perché è confuso e crede di parlare con un uomo incredibilmente effemminato e basta non ci piacciono è curioso e preoccupante il fatto che ci sia un certo numero di uomini che non ha ancora chiaro in testa se vuole più scoparvi o uccidervi questa cosa non succede tra i koala o tra i merli indiani per esempio ho una teoria in proposito secondo me quando un uomo scopo una donna quello che sta veramente cercando di fare è accoltellarla col cazzo è un'idea soltanto può essere che sia così nessuna donna nel giardino terrestre nessuna donna nel giardino terrestre Adamo è scemo come una brocca e vede due armadilli che scopano e si sente solo e va a piagnucolare da dio vaffanculo ha appena fatto tutto il creato letteralmente non gli rompe gli vogliamo dare dieci minuti ti sta per fare una squadra di atleti crossfit con cui scopare finché non ti compare il secondo buco del culo gli vogliamo dare dieci minuti scopati l'armadillo è disponibile lì apposta no si sente solo e va a piagnucolare e la donna è quello che succede quando tu metti fretta al creatore sostanzialmente arriva arriva la donna e sbaracca tutto in sette secondi mangia la mela fanno cagare le mele fanno cagare se ti avessi detto non mangiare il culatello cazzo avrei empatizzato ma la mela mangia la mela perdiamo l'immortalità veniamo sbattuti fuori dal led 7 mila anni dopo il movimento 5 stelle governa il paese grazie ragazzi ottimo lavoro ottimo lavoro bellissimo lavoro tutto questo tutto questo in realtà mi serve per arrivare a una conclusione mia personale un'opinione che mi sono fatto che è questa l'eterosessualità come comportamento diffuso comune temo che sia frutto in gran parte di un costrutto sociale un po' per natura e un po' per costrutto sociale voglio dire per centinaia di migliaia di anni tutto quello che dovevamo fare per sopravvivere come specie era riprodurci il più possibile e quindi è del tutto legittimo pensare che la natura abbia fatto il suo lavoro e aver selezionato tra di noi quelli che preferivano l'altro sesso in modo che potessero procreare e poi socialmente abbiamo proibito l'omosessualità perché per la stessa ragione era un comportamento pericoloso non ci faceva procreare ma fateci caso non appena si calmano un attimo le acque non appena si raggiunge un certo equilibrio una certa parità sociale non parlo di adesso anche i grandi imperi del passato i greci, i romani appena tutto torna leggermente in pari e non è più così necessario fare dei bambini ah noi ricominciamo ad incularci alla grandissima alla grandissima tipo una settimana prima siamo tutti oh quanto mi piace la figa dobbiamo proteggere la tribù e poi inventiamo il frigorifero e dopo due secondi stiamo succhiando il cazzo come se non ci fosse un domani e il fatto è questo ognuno di noi è cresciuto in una società che ha il 99% eterosessuale questo è il primo modello a cui siamo stati esposti nell'infanzia i nostri genitori erano omosessuali forse i miei genitori erano omosessuali i vostri genitori erano eterosessuali i nonni erano eterosessuali tutte le famiglie degli amici erano eterosessuali le favole che ci raccontavano la televisione, i film, i libri qualsiasi cosa era tutto eterosessuale ti piace la figa? perché ti hanno detto che ti deve piacere la figa se tu fossi cresciuto in una società 50-50 50% eterosessuale 50% omosessuale forse ti piacerebbe comunque la figa perché magari questa è la tua inclinazione ma 14-15 cazzi te li hai risucchiati sicuro sicuro arrivavi a 14 e dicevi no 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 non mi piace non fa per me però abbiamo fatto 14 vogliamo fare cifra tonda arrivare a 15? no vogliamo fare a 15 e poi facevi come me con le ostriche io odio le ostriche mi fanno vomitare le ostriche però siccome sono universalmente riconosciute come una prelibatezza ogni 5 anni gli do una possibilità e facevi esattamente la stessa cosa ogni 5 anni qualcuno mi mette un cazzo in bocca aaaaaah non mi piace non mi piace però vienimi in bocca perché ho un maglione di cashmere non lo voglio rovinare grazie mille allora uno mi vede e giustamente dice questo quando va al mare fuma le siga al sole non fuma all'ombra come quegli sfigati lì è davvero io il carattere me lo sono formato al liceo con il mio compagno di banco che è un rapper emergente dal 2015 è un po' tutta la gente della nostra età è un po' affascinata da questi personaggi dei rapper si può dire no? però io li ho visti da vicino raga cioè ero uno dei fra non ero magari il re della situa però ero tipo il numero tre della situa ero il duca della situa il capo era il mio compagno di banco il suo nome da rapper Reddy Forever che a me sembra il nome da rapper di uno di una telenovela per ragazzine tipo Mondo di Patti detto questo è un nome come un altro io mi chiamo Pietro alla fine è uguale io e Reddy giravamo sempre insieme molto spesso mi ha presentato un sacco di suoi amici rapper uno una volta per ridere mi ha sguinzagliato il suo cane con la tipa che rideva gente poco studiata ma sanguigna adesso è un po' che non lo vedo l'ultima volta che l'ho beccato era poco prima del coronavirus l'ho beccato fuori da una stazione a Genova che litigava con un barbone che fico che fico perché lui non ha paura dei barboni e quindi è un fico però i rapper raga io ve lo devo dire sono degli sfigati ma degli sfigati tremendi vi racconti quando l'ho scoperto mi ero visto una sera per bere con Reddy il mio compagno di banco e due suoi amici rapper sai fai serata con i rapper non è che vuoi sfigurare quindi io c'ero arrivato già un po' carico mi ero ubriacato a casa quelli cuori per dolci di mia madre non volevo fare brutta figura no? loro sobri sobrissimi un coro di chirichetti totalmente sobri allora ci infiliamo in un bar per prendere da bere io prendo una birra Reddy prende una birra gli altri si mettono a fare dei discorsi tipo no ma fra io mi rompo il cazzo bere mi rompo il cazzo uscire preferisco stare a casa con la play mi fu una canna cazzo ma è una vagina tatuata sul collo nel tuo ultimo pezzo mi minacciavi di spararmi in culo e di limonarmi per riprenderti il proiettile e adesso ti sorseggi una sprite per tre ore con la cannuccia a ginocchino ma chi cazzo sei? il rapper della melevisione sei Tonio Cartoni o zio e da lì mi si è smontato tutto ci ho pensato ho detto cazzo cioè i rapper ci dicono no? cosa ci dicono? che loro vendono droga pavoni thailandesi ti scoprono la tipa sperano a tuo padre noi ce ne stiamo perché ce lo dicono in rima in rima raga le rime sono da sfigati duri punto e a capo a casa mia parlano in rima i maghetti il bianconiglio gli gnomi della foresta non uno che ti vuole rompere il culo voi siete pure a Milano ne vedrete di tutti i colori ci sono lì fuori dai locali che fanno freestyle per provarci con le tipe ste povere disgraziate che hanno appena iniziato a cercare il cazzo con protagonismo e si devono sussare sti qua che parlano come dei teletubbies e se li devono pure se li devono pure far andare bene se li devono pure a far andare bene perché sono bravi a parlare come dei teletubbies improvvisando e io mi ammazzo io me la gestisco così mi devo ammazzare per forza perché sti qua pensano veramente di sapere tutto pensano di sapere tutto questi miei amici qua che vengono dalla strada mi facevano dei discorsi cercavano di darmi delle dritte di vita c'era uno che si chiamava MC Zainetto MC Zainetto raga che mi fa adesso Pietro ti spiego cosa devi fare quando vai in prigione abbiamo sedici anni cosa stai dicendo no 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 ti servirà ti servirà allora se vai in prigione per farti rispettare l'unica cosa che devi fare è andare dal tipo più grosso e cattivo della prigione e spaccargli la faccia ma è un'idea di merdissima io non so battermi io mi sono rotto la mano tirando un pugno al sacco a educazione fisica non ci posso andare da sto tipo qua se provo ad andare a spaccargli la faccia sono fortunato se dopo avermi strappato le braccia non mi fa diventare la sua fidanzata non me lo posso permettere va acitezza in eto tutto carico degli zuccheri della sprite a spaccargli la faccia a Mauro Tritacani detto il violento che poi a me per Mauro dispiace perché nel senso ogni volta che c'è una nuova infornata di galeotti lui sa che ci saranno quei tre o quattro imbrecilli che proveranno a coltellarlo con una saponetta è brutto cioè nessuno è costantemente in pericolo quanto il tipo più grosso e cattivo della prigione è strano che peraltro si chiama Mauro Tritacani cioè dovrebbe avere un minimo di reputazione buonasera a tutti è da un po' che non salgo sul palco poi finalmente hanno messo lo scivolino sì che poi non volevo nemmeno fare il comico inizialmente io volevo fare il giornalista e ci ho provato per un periodo ho lavorato in una redazione non penso che mi stimassero molto visto che mi chiamavano così e visto che mi cazziavano sempre mi cazziavano continuamente ed ero talmente stressato che sulla pelle mi erano venute delle chiazze rosse bianche pruriginose ed era buffo c'era come se il corpo avesse somatizzato il disagio per creare una scusa hai scritto un articolo di merda e non sono io è la lebra poi aggiungo non avevo benefit nessun tipo di benefit fate conto che io andavo alla mensa della redazione via l'abruzzi milano però alt la mensa non era in via l'abruzzi la mensa era il via l'abruzzi io mangiavo in strada con i barboni anche se loro mi stimavano loro mi chiamavano montanelli non per il giornalismo è che mi piacciono le ragazzine e dopo un mese così un mese di inferno di inferno il caporedattore mi chiama nel suo ufficio e mi spiega guarda francesco il mestiere di giornalista è molto semplice devi scrivere bene devi scrivere veloce devi ottimizzare le parole chiave per i motori di ricerca per i google e devi fare un doppio salto carpiata atterrando in punta di minchia è molto semplice fare giornalista io l'ho visto come lavori non si è portato per questo mestiere mi dispiace per intenderci tu stai al giornalismo come Mario Giordano sta al giornalismo io avevo il cuore spezzato non potevo crederci e per mesi mesi ho continuato a pensare tra me e me davvero mi ha paragonato a Mario Giordano oddio che schifo che schifo Mario Giordano l'unica cosa che abbiamo in comune io e Mario Giordano è la disabilità non c'è altro che abbiamo in comune è stato difficile io avrei voluto rispondere al mio capo avrei voluto dirgli qualcosa solo che non ho abbastanza autostima io non so esprimere il dissenso quello che gli avrei voluto dire è tipo signor Stefano Adami no aspetta questo è il suo vero nome qui sul palco non voglio fare il suo vero nome che tra parentesi è Stefano Adami ok Stefano Adami sono un signore io nome di fantasia ce l'ho gli avrei voluto dire signor Stefano Adami lei giudica una persona dopo meno di un mese senza considerare la forza di volontà il carattere di quella persona per cui non sono deluso da me stesso ma dalle sue parole cariche di cinismo questo è quello che gli avrei voluto dire quello che sono riuscito concretamente a dirgli è stato tipo e basta non gli ho detto altro poi sono scappato piangendo parte il paragone con Mario Giordano ma quel tizio mi disse la verità e la verità fa male e io sono contrario cioè perché devi dirla per forza cioè se ci tieni di là ma mettici delle cose carine nel mezzo che so un complimento ecco guarda non sei intelligente non sei apprezzato la redazione penso hai due bellissime labbra occhioni da cerbiatta se mi avessi detto così avrei pensato vuole licenziarmi oppure vuole un pompino oppure vuole licenziarmi dopo un pompino e magari me la sei recavata visto che in quelli sono bravo la verità è la verità è sopravvalutata anche nelle relazioni ci sono un sacco di ambiti momenti in cui non puoi dire la verità in cui non puoi essere onesto fino in fondo c'è per dire dire quando ti quando ti frequenti all'inizio con una persona capita che ci si facciano quelle domande di test tu non puoi essere onesto fino in fondo che cosa ti piace di più di me le tette non puoi sì ma dal punto di vista caratteriale sempre le tette non puoi chiaramente è assolutamente logico ma anche quando la relazione è già avviata e ci si fanno quelle domande di prospettiva come ti vedi nel futuro tu non puoi essere onesto fino in fondo io nel futuro mi vedo in una bella casa con un giardino e una veranda dove c'è una mosca qui è una veranda dove cenare d'estate senza mosche e poi vorrei una famiglia in vacanza e io da sola a casa che organizzo un festino a base di sushi coca e mignotte come mi vedo nel futuro in overdose amore mio avete appena fatto un applauso a un overdose questo non è come di central questo è un rave che ci sono